Nell'ultimo video è arrivato questo commento Quindi Buongiorno a tutti Oggi costruiremo il Il mega burger Pollo pollastro Sfraudolento Non so che titolo metterò però lo farò Allora guardate qua che bello inquadratore di me Prendiamo un mega burger Mega burger Buttiamo via quello vecchio Guardate che bello che sono Allora piastriamo questi due burgers Guardate che croccantesca Speziale Manco il ciccio li fa così Comunque Aiuto Gesù Mettiamo le sottilette qua sopra e li riscaldiamo col fuoco Perché non c'ho voglia di rimetterlo in forno a microonde Che si ammascia il pane Quindi facciamo questa cosa su tutte le sottilette Non c'ho più voglia Buttiamoci sopra i cottoletti Con belle fette di parmigiano e chiudiamo Guardate Allo centro è piatto Però volevo fare qualcosa di speciale Quindi ci ho messo le crocchette Questa qui è la mia cosa favorita Ever In la storia di forever Penso di questo ogni giorno Penso di questo tutta l'anima Penso di questo Non dormo Perché penso di questo Cotto la piastra Una a una Buone Assaggiamo qui Crocchette Deliziose Ma adesso Passiamo a questo forte Un hamburgus Metà perché l'altro Mangia da fuori Guardate che bello Vediamo un morso Sentirai la durezza Della Crocantezza Del pane Del Pan cratata E poi Guardate che faccia da culo Mente magra Faccia da culo Che cazzo è che fa sti rumori Ebraici Porco Dio Comunque guardate come mangio Non capisco Cos'è quella merda Ah è parmigiana Buttiamolo Perché guardi il cielo Sei disperato Bravo Continuo a mangiare Quel panino Quel pan Mangialo Il mega burgus Al pollo Contiene due cottoletti Due sottilette Il mega burgus Che fai? Stai morendo? Smettila di mangiare Eh si sta morendo Smettila di mangiarlo Stai morendo Non lo fare Dal futuro Parlerò E dirò Che la scelta Più saggia Fu Di non completare L'aspuramento Ma lui la completò La completò E morì Di una morte Orribile Adesso in per due Perché ci ho messo Troppo a mangiarlo Guardate sta morendo Piano piano Da questo frame A velocità ridotta Vi ringrazio di aver guardato il video Vi consiglio di guardare tutti gli altri sul cibo Perché Sium Mhhh Mh G Grazie per la visione!